Marito e moglie sono stati posti ai domiciliari dai carabinieri di Reggio Calabria in quanto gestori di una casa di riposo abusiva con l'accusa di maltrattamenti e abbandono di persone incapaci con l'aggravante di aver causato lesioni personali. Le indagini traggono origine nel giugno del 2023 quando i carabinieri dei Nasse durante un controllo riescono ad accedere in un albergo dismesso in località Gallico dove era stata allestita una vera e propria casa di riposo senza alcun titolo autorizzativo. La struttura ospitava oltre 30 anziani incapaci di provvedere a loro stessi per vecchiaia e gravi patologie in condizioni igienico sanitarie con reste di fece e urina per terra e sui letti, pannoloni sporchi, reste di cibo e stoviglie usate tanto che tutti gli ambienti erano impregnati di un odore nauseabondo. Come se non bastasse le condizioni degli ambienti adibiti e cucina erano quasi peggio del resto della struttura con alimenti scaduti e un incattivo stato di conservazione. Anche presso la medicheria molti degli farmaci risultavano scaduti. A completare una situazione già surreale i tecnici dell'Enel hanno accertato che l'intera struttura era alimentata con un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica pubblica. I carabinieri hanno scoperto che i due arrestati non erano nuovi a queste condotte. Infatti nel gennaio e luglio del 2020 erano stati deferiti per fatti simili ed erano state sequestrate altre due strutture adibite a casa di riposo. Anche queste prive di autorizzazione tra Reggio Calabria e Gambari. Oltre a marito e moglie sono stati deferiti ulteriori tre operatori sociosanitari che lavoravano nella struttura.